Ho deciso di selezionare quelli che a mio avviso sono i migliori 5 mouse da gaming sotto la soglia dei 20 euro. Stiamo parlando di mouse economici ma con buone prestazioni in gaming. Iniziamo con il primo modello. Si tratta dello Zelotes T90. Stiamo parlando di un mouse con addirittura 9200 dpi regolabili su 6 livelli tramite il pulsante dedicato. Possiamo quindi settarli partendo da un minimo di 1000 dpi. Il mouse permette di scegliere 7 colorazioni led e ben 13 modalità di luce. Le colorazioni led possono essere inoltre disattivate. Terzo aspetto interessante è la possibilità di regolare il peso del mouse tramite 8 pesetti che possono essere tolti o spostati in modo da trovare la configurazione che più si preferisce. Naturalmente come molti mouse da gaming sul mercato anche quest'ultimo presenta il tasto per effettuare il doppio clic che rappresenta un vantaggio nelle fasi di gioco più concitate ed anche nell'utilizzo di tutti i giorni. Ultimo aspetto non meno importante con il suo prezzo di soli 18 euro mette sul piatto un livello di prestazioni davvero buono. Ragazzi lo Zelotes T90 si presenta meno plasticoso di quello che sembra in foto e regge il confronto con prodotti ben più costosi. Andiamo avanti con il secondo modello selezionato prodotto dall'Easy SMX. Si tratta di un altro mouse ottico dal costo di poco superiore ai 12 euro. Abbiamo 4000 dpi di risoluzione massima e la possibilità di regolarli partendo da un minimo di 400. Ragazzi spesso si è attratti da mouse con valori di dpi altissimi ma nell'utilizzo di tutti i giorni ed anche in gaming è davvero difficile utilizzare più di 3000 dpi. Quando si impostano infatti i valori più alti vedrete il vostro mouse schizzare velocissimo da un punto all'altro dello schermo e sarà davvero difficile avere un minimo di controllo. Insomma 4000 dpi vanno più che bene. Anche qui abbiamo la possibilità di impostare il doppio clic ed abbiamo anche la funzione sniper ossia un tasto che rallenta dpi a 400 per rendere l'ingaggio del bersaglio in game più preciso. Anche questo mouse è munito di cartucce di differente peso che vi permetteranno di regolare il peso del mouse secondo le vostre esigenze. Ragazzi mi è piaciuta molto la comodità di questo mouse ed il software di gestione davvero semplice con cui potremo cambiare l'impostazione di ogni singolo tasto ed anche i colori del mouse che sono 7. Per quello che costa è davvero buono. Passiamo ora al terzo modello scelto e prodotto dalla Quinder. Per quanto concerne dpi il valore massimo è di 6800. Possiamo regolarne il valore in due modi. La prima modalità prevede 7 livelli che partono da un minimo di 1000. La seconda modalità prevede 4 livelli di regolazione. L'aspetto che più mi ha impressionato relazione al suo prezzo basso è la precisione nei movimenti dovuta ad un sensore ottico davvero preciso e che sembra appartenere ad un prodotto ben più costoso. Altro aspetto che mi piace è la colorazione RGB davvero bella. Passiamo ora ad una cosa che non mi è piaciuta. Non so per quale motivo ma alcune volte capita che anche dopo lo spegnimento del pc la colorazione RGB del mouse rimanga attiva e questo a volte mi ha costretto a staccare il mouse dalla porta usb. Detto questo gode di 24 mesi di garanzia ed in generale è davvero un buon prodotto se lo si rapporta al prezzo di soli 12 euro. Il quarto modello scelto è prodotto dalla PicTech ed è il mouse di questa lista che esteticamente mi piace di più. Il valore massimo di DPI è di 7200 che possono essere regolati su 5 livelli partendo da un minimo di 1200. I pulsanti regolabili sono 8 ed ha una colorazione full RGB ossia da 16,8 milioni di tipi di colore RGB. Possiamo addirittura regolare la frequenza di polling su 4 livelli da un valore minimo di 125 Hz fino ad un massimo di 1000 Hz. Ragazzi questo è un mouse dedicato principalmente a chi gioca ad fps. Addirittura il pulsante di fuoco rapido con un click realizza ben 7 clic. Questo è sicuramente un vantaggio nelle fasi più concitate di gioco. Altro aspetto positivo è che ha davvero un'ottima ergonomia e la superficie a contatto con la mano è prodotta con un materiale antisudore. Ha un costo intorno ai 18 euro ma la qualità è quella di un mouse ben più costoso. L'ultimo modello che ho selezionato è prodotto dalla version tech ed è il mouse più economico della lista con un costo addirittura inferiore ai 10 euro. Abbiamo 7 tasti regolabili ed un valore massimo di 2400 dpi regolabili su quattro livelli ed una colorazione anch'essa regolabile. I colori disponibili sono 7. L'aspetto che mi piace di questo mouse è il materiale di costruzione che potrebbe sembrare a prima vista una semplice plastica invece al tatto risulta essere un po' gombosa ed antiscivolo. Per chi usa il mouse non solo in gaming un aspetto davvero comodo sui due tasti laterali che Windows riconosce come tasti di back and forward. Questo permette una navigazione su browser e all'interno delle cartelle davvero veloce. Per oggi è tutto, come al solito trovate tutti i link in descrizione. Fatemi sapere qual è il modello che vi piace di più, se questo video vi è piaciuto spolliciate e soprattutto se come me amate l'hardware e non vi sto troppo antipatico iscrivetevi al canale. Ciao!